Arrivano i primi risultati della max operazione contro i furti in appartamento messa in campo dai carabinieri del comando provinciale di Avellino ed è proprio grazie all'intensificazione dei controlli che domenica sera i militari sono riusciti ad intercettare un'auto che procedeva con fare sospetto sulla 16 in direzione Bari. Erano le 21 e 30 circa quando i carabinieri in borghese hanno notato una Ford Focus che si muoveva lentamente a margine della carreggiata all'altezza della galleria di Montemiletto. Dopo qualche minuto di osservazioni militari hanno cominciato a pedinarla. L'uomo alla guida accortosi di essere seguito ha cominciato ad accelerare innescando un vero e proprio inseguimento. Grazie all'intervento di altri equipaggi prontamente intervenuti la corsa del sospetto è terminata nei pressi del casello di Grotta Minarda. Al momento del controllo nell'abitacolo è risultato esserci un solo albanese di 30 anni. In base alla ricostruzione fatta dagli uomini dell'arma pare però che all'inizio dell'inseguimento nell'auto ci fossero almeno tre persone. È piuttosto probabile dunque che gli altri occupanti siano velocemente scappati uscendo dalla macchina approfittando del rallentamento strategicamente provocato dai carabinieri per costringere l'auto a fermarsi. A seguito di un controllo la Focus è risultata intestata ad un prestanome pregiudicato della provincia di Caserta già noto per reati simili ed è stata sottoposta a sequestro perché priva di copertura assicurativa. Al suo interno però non è stato trovato nulla che potesse essere utilizzato per un furto. È piuttosto probabile dunque che i fuggitivi abbiano portato con loro eventuali zaini contenenti Grimaldelli ed Arnesi atti allo scasso.